Giuseppe Passitone è a Genova al Teatro d'Archivolto dove sta provando uno spettacolo di Paul Oster, l'invenzione della solitudine che andrà in scena il 18 di dicembre. Sicuramente uno dei volte più noti del cinema italiano, tra i Davidi Donatello come attore non protagonista, un nastro d'argento come attore non protagonista, un premio Chuck, questo solo per il cinema, due premi Ugo per quello che riguarda il teatro, non si è fatto mancare niente. No, sono bellissime soddisfazioni, attestazioni di un percorso, probabilmente di scelte professionali fatte, per cui sono molto contento di questi riconoscimenti, ma non stanno in cima alla lista dei miei pensieri, in questo momento c'è Oster. Tra l'altro il protagonista, poi parleremo anche di cinema, parleremo anche di teatro, il protagonista in questa prima parte di stagione cinematografica, due film che hanno avuto successo, Zora è il mio fratello scemo, il mio ripoteo scemo, e la prima neve di Segre, tutti e due successo, tutti e due a Venezia. Qualcuno la definisce un autore di culto, un artista di culto, ci sta dentro? Non lo so, in quest'epoca politeista, non so quale sia il culto adatto, la circostanza, ma qui non lo so, di culto rispetto forse alle scelte, ai tipi di film a cui prendo parte, penso che quelli siano film di culto, quindi uno diventa di riflesso attore di culto, ma non... penso di essere sereno rispetto al mio lavoro, al rapporto con il mio lavoro, perché riesco a fare all'interno dell'attività che desideravo di svolgere, riesco a fare i lavori che più mi piacciono, questo sì, questo sì. Questa passione quando è nata? Lei è friulano di Udine, poi è andata a Milano alla Paolo Grassi, si è diplomato lì, è nata da bambino. È nata lì, è nata lì, l'ha detto tutto lei, sì, è nata iniziando a studiare, ho fatto appunto una scuola a Milano, a Paolo Grassi, e poi ho cominciato a lavorare, due incontri più importanti della mia carriera sul piano del teatro, sono venuti con Alfonso Sant'Agata e su quello del cinema con Silvio Soldini e con entrambi ho lavorato, Silvio sto ancora lavorando, anche con Alfonso se è per quello, con entrambi ho lavorato e lavoro per tanti anni e condividendo percorsi e visioni professionali e artistiche proprio in comune, quindi sono state le due figure che più mi hanno segnato, ecco, le figure più significative nella mia carriera. Dicevamo, il testo di Paul Oster, uno spettacolo anche sul rapporto padri-figli? Solo sul rapporto padri-figli. È un testo, quello di Paul Oster, che grazie al lavoro di montaggio, di drammaturgia che ha fatto Giorgio Calione, ci mette di fronte a un protagonista che è questo scrittore, che è Paul Oster, che parla di sé come figlio, prima come figlio e poi come genitore. Parla di sé come figlio quando parla del rapporto con il padre, parla di questa figura paterna, della morte del padre, di com'era questo padre, di com'è ha influenzato la sua infanzia e poi da questo lui passa a parlare della sua esperienza di genitore a sua volta. Quindi parla del figlio, parla dell'amore per questo bambino e del suo percorso affettivo prima come figlio e poi come genitore. Il rapporto con i suoi genitori com'è stato? Nel senso anche rispetto alla professione che ha scelto, perché molti per esempio... Di Oster non lo posso sapere, quello mio non lo potete sapere. Ma i suoi genitori l'hanno stimolata, l'hanno osteggiata in questa sua passione per... Non è rilevante questo, davvero. Allora volevo chiedere, lei diceva su un rapporto, cioè uno spettacolo sul rapporto padre-figlio, ma anche uno spettacolo sulla memoria in qualche modo, un testo sulla memoria. Beh, necessariamente nel ripercorrere la vita del padre arriviamo addirittura anche al nonno, quindi insomma è chiaramente la memoria di chi ci ha preceduto è importantissima. Ecco, io sono... ero molto affascinato dall'idea di affrontare un testo come questo perché appunto dà lo spunto per fare una riflessione di questo tipo. E siccome credo che in questo momento ci sia una forma di confusione, ovviamente è sempre brutto generalizzare, però c'è una forma di visione confusa nel rapporto padre-figli laddove vedo che ci sono certi genitori che non riuscendo a entrare nell'animo e nel mondo dei loro figli cercano di assomigliarli prendendo abitudini e in qualche modo cercando di ringiovanire se stessi portandosi a livello generazionale a livello dei propri figli. Siccome trovo che sia una dinamica piuttosto sbagliata, pericolosa più che altro perché non genera niente e secondo me era importante in qualche modo fare una riflessione su questo rapporto visto che sia il mestiere di genitore che quello di figlio sono credo i più difficili che esistano ma soprattutto non si può imparare credo che ogni vita sia una vita a sé stante sia un un miracolo che che prende la sua strada ma non c'è non c'è un modo di essere genitore non c'è un modo di essere figli c'è un modo di costruire una famiglia ecco quello sì ma lì sono tutte cose che vanno che uno deve imparare facendo il suo rapporto con il teatro in questo senso lo dico perché non vuole essere una lezione lo spettacolo assolutamente una riflessione una riflessione quello sì certo ma non vuole insegnare niente il suo rapporto con il teatro la sua filmografia è abbastanza sterminata tra serie tv e film una quarantina di opere il teatro un po' meno ovviamente anche perché perché le preferisce fare cinema perché le occasioni sono mancate perché un amor no no è che il teatro va pianificato con tanto anticipo ed è più difficile riuscire a gestirlo i film succedono quindi ci sono delle hanno delle tempistiche delle organizzazioni completamente differenti per fare uno spettacolo di teatro devi muoverti un paio d'anni prima quindi per quello per me è più difficile però io in questi anni con una certa continuità ogni anno l'ho fatto il teatro forse ho fatto meno spettacoli ma me ne ho portati in giro l'anno scorso sono venuto qua con Macbeth quattro anni fa ero venuto con il 18.000 giorni il Pittone cinque anni fa con Orson Welle Ross quindi insomma non è che ultimamente si è anche in questo caso il suo rapporto con il teatro dell'archivolto sappiamo che il teatro dell'archivolto sta passando purtroppo una situazione difficile come molti altri teatri qui a Genova ovviamente in particolare con molti artisti che si stanno spendendo a favore del teatro dell'archivolto trovo che innanzitutto la struttura del teatro Modena a gusto personale sia la più bella della di Genova però è un come luogo è davvero un luogo di grande aggregazione dove si opera cultura a 360 gradi qua ogni giorno succede qualcosa io sono rimasto colpito vengono musicisti vengono bambini pure la domenica mattina vengono a danzare o in un'altra sala vengono a provare qualcosa e l'altro giorno sono arrivate è arrivata la banda Osiris a fare tre giorni di prove cioè è una è una fucina in costante attività e questo questo intanto è un segnale splendido perché nonostante i problemi e so quali sono e quanto gravi siano i problemi del teatro e di questo teatro nello specifico e trovo che l'archivolto dia la risposta migliore perché non ci sono occhi per piangere ma mani per fare si dice quindi loro fanno tanto e operano cultura in questa città ma non solo in questa città il teatro dell'archivotto è famoso in tutta Italia per la varietà e la qualità delle proposte che fa passando al cinema io ho letto un'intervista in cui lei che peraltro ha vinto i premi che abbiamo detto prima come attore non protagonista rifiuta il termine caratterista nel senso che è un termine che per esempio nel cinema americano è un termine molto nobile forse perché ho spiegato il motivo siccome in Italia ha un'accezione sminuente o deteriore lo rifiuto principalmente ma anche perché non è non tecnicamente non è così il caratterista è un altro tipo di ruolo ne ho interpretati di ruoli da caratterista però non faccio solo quello io sono un attore punto e basta ma credo che quando si parla di un avvocato è difficile definirlo civilista o penalista principalmente è un avvocato un libero professionista più libero in questo caso come sceglie i suoi copioni perché sembra che abbia un po' una specie di mano d'oro di tocco d'oro perché oppure è Battiston che li rende un successo perché molta gente diciamolo va a vedere dei film perché c'è Battiston e che magari non avrebbe visto senza Battiston questo mi responsabilizza è una cosa grave è una cosa bella perché è una cosa grave sì sì no cerco di scegliere tutto quando si può perché non è che uno abbia sempre tutta una sfilza di copioni dove pescare no cerco di di fare di prendere parte a progetti che abbiano qualcosa di importante di interessante o di divertente anche da dire non sempre il cinema di impegno sociale non c'è solo quello c'è anche quello di trattenimento di divertimento che deve essere assolutamente considerato no cerco soprattutto quelle situazioni dove posso fare il mio lavoro e non essere considerato sempre un caratterista ecco onestamente è questo il criterio dopodiché se io ho la possibilità di costruire un personaggio di dargli una vita quindi dargli una tridimensionalità e uscire in questo modo dalla definizione del carattere anche perché io penso che molti lo mi definiscano così soltanto perché identificano caratteristiche con una fisicità ecco quindi come bisognerebbe anche sconoscere il significato dei termini ecco prima di usarli ecco lei come entra nel personaggio voglio dire De Niro se deve fare un fisico si prende sei lauree prima di interpretarlo a me non è mai successo a limite ho fatto un professore quindi no sono molto naturali recito con molta naturalezza ma io parto dall'osservazione della realtà quindi bisogna individuare appunto all'interno della cosa che vai a fare cercare di dargli la vita quindi capire come si può muovere questo personaggio come può parlare e tutto questo non può prescindere dall'osservazione della realtà insomma ci sono i personaggi sono per la strada quindi poi è la tua fantasia che si mette in moto vede qualcuno e dice ma forse questo potrebbe essere quel personaggio che racconta questa storia quindi e provi provi vedi come ci stanno come ci sta il corpo di un altro nel tuo come ci stanno le scarpe di un altro nei tuoi piedi e da lì cominci a respirare è molto importante anche secondo me il discorso considerare il fatto delle provenienze perché noi fortunatamente in Italia abbiamo ci sono un sacco di dialetti di linguaggi e di provenienze appunto di popolazioni differenti tra di loro e io solo che io questa la ritengo una ricchezza e trovo che ogni popolazione d'Italia abbia un suo bagaglio di fisicità e di voci e di modi di pensare di modi di muoversi e quant'altro che sono importanti e che sono diversi tra di loro quindi anche questo aiuta nel nostro percorso a differenza del cinema americano dove queste tipologie non ci sono C'è un film a quale è particolarmente legato? Io sono legato a tutti i film che ho fatto in questo momento sono molto legato ai due che sono usciti a Zoran il mio nipote scemo e alla prima neve Zoran è quello che merita merita che non è che merita ha più bisogno di sostegno perché è la realtà più piccola è un'opera prima è un film fatto con il coltello tra i denti con pochissimi soldi quindi è un film che quello che sta raccogliendo lo sta raccogliendo grazie alla qualità di quello che esprime e sono legatissimo alla prima neve perché sono legatissimo ad Andrea Segre al suo lavoro e alla sua poetica perché trovo che sia necessaria in questo momento è una persona che ha un occhio profondo per analizzare la realtà e che riesce a portare la gente al cinema senza né annoiarla né colpevolizzarla prossimo film invece di Giuseppe Battiston che uscirà? no non lo sa no credo lo sarà se lo ricorda no dovrebbe essere dovrebbe essere il film di Carlo Mazzacurati va bene allora diamo appuntamento a Giuseppe Battiston al cinema con il film di Carlo Mazzacurati a teatro all'Archivolto il 18 di dicembre con questo testo di Paul Oster grazie grazie mille grazie a voi ciao grazie a tutti